al mino, perché questa ricerca porti i suoi frutti, perché la meta possa essere raggiunta. Pellegrino significa, infatti, cercatore di questo bene. E Maria, la nostra dolce mamma, ci ha condotti da questo bene prezioso, che è Cristo nostro Signore. Pertanto dobbiamo sempre metterci in movimento nella speranza che possiamo cambiare, possiamo convertirci. I numerosi pellegrini, il ceto dei muratori, che ha portato stasera in spalla la vara della Madonna e quindi ha camminato, ha pellegrinato. Se non cambia, se ogni pellegrino che portava la fiaccola in mano e ha fatto quindi la processione, non cambia, non si converte, il pellegrinaggio fino al santuario è stato inutile. L'ha detto anche l'altro giorno un sacerdote che abbiamo invitato durante la celebrazione della Messa. Il pellegrinaggio è valido singolarmente nel momento in cui io decido e prometto alla mia mamma celeste, che era Madonna di Custonaci, la mia conversione. E allora Maria Santissima di Custonaci, che quest'anno l'abbiamo voluta invocare come regina della pace, ci aiuti alla nostra conversione. Prima di tutto, personale e poi anche comunitaria. Sia lodato Gesù Cristo. E vorrei ringraziare per questa giornata dello sbarco i pescatori che ogni anno preparano e si preparano nella preghiera con cura allo sbarco. Poi vorrei ringraziare il ceto dei muratori, che ha portato in spalla la vara della Madonna, il centro flora di Benedetta Scalabrino per l'addobbo floreale della vara. Poi ancora l'amministrazione comunale tutta, nella persona del sindaco il dottore Giuseppe Morfino, le autorità civile e militari presenti, le forze dell'ordine tutte, la capitaneria di Porto, l'associazione musicale Città di Custonaci, che ha animato la processione. E poi ancora un'amica, che è Sabina Braschi, per le interviste in diretta su Facebook. E poi, infine, vorrei ringraziare l'Unitalsi, che ha partecipato anche quest'anno con i numerosi ammalati e amici che hanno voluto essere con la comunità di Custonaci per vivere insieme questo momento forte e di intensità. E per ultima, ma non perché sia meno importante, vorrei ringraziare l'associazione Maria Santissima di Custonaci, uno per uno, tutti i componenti, e il suo presidente, che è ancora Nino Mazzara. Quindi grazie a tutti e ci rivediamo domani sera per gli spettacoli conclusivi a Piazza Municipio e poi ancora mercoledì con la solennità vera e propria, con le tre messe la mattina. Quella delle 11 sarà preseduta dal nostro Vescovo, che domani già sarà in diocesi, e poi la sera, alle 18.30, uscirà la processione, che si snoderà per tutte le vie cittadine della nostra Custonaci. Ora pregherei, per favore, tutti coloro che sono sul Sagrato, di spostarsi a destra e a sinistra sui terrazzini, subito o in maniera molto veloce. Sì, è di buccia. Sì, è di buccia. È, sorpresa. Sì, è di buccia. Grazie a tutti. 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 Vi benedica di Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore proseguite in pace. Rendiamo grazie a tutti. Grazie a tutti.